Ok ci siamo, ci siamo, qui c'è ancora un po' di caos perché è appena finita la prima giornata dell'NHR qui a Orlando e ti faccio vedere un pochino delle cose, delle novità che ci sono quest'anno Prima di tutto la maglietta, vediamo se si vede, ma col cervello tutte le cose I'm making brain juices, perché? Perché con l'NHR, lavorando con l'ipnosi, creiamo succhi di cervello o meglio tutto ciò che ci permette di cambiare attraverso l'idea proprio di cambiare lo stato chimico del nostro cervello Poi ti faccio vedere, ti porto a conoscenza di una novità grandiosa che è arrivata proprio oggi, oggi e l'hanno regalata a noi del top team, degli assistenti del dottor Richard Bendler Ed è, tatà, questo è il nuovissimo libro di Richard Bendler Pensare di proposito Un piano, una pianificazione da 15 giorni per una vita più intelligente Libro che ho già sfogliato, è fichissimo Non vedo l'ora che ci sia in italiano, chissà quando ci sarà Non ti possiamo anticipare ancora nulla Però, 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 chissà cosa si può fare Bene, queste sono le prime novità Poi, poi, beh, Richard è extra in forma quest'anno sempre di più La cosa meravigliosa del dottor Richard Bendler è che ogni anno diventa più giovane Quello, come fa? Beh, lavora sul brain juice Cioè, lavora su tutte quelle modalità e quegli aspetti che riguardano la chimica del corpo Tant'è che ti anticipo che in questo libro ci sono anche una serie di consigli sugli aspetti vitaminici, integrativi, di alimentazione, di respirazione e così via Che permettono alle persone di avere una vita migliore Migliore a 360 gradi Più intelligente, più efficace, più in grado di portare felicità nella quotidianità Quindi, aspetta questo libro per quando arriverai in italiano Se parli inglese, assolutamente vai ed acquistalo Acquistalo perché ti permette veramente di avere un impatto sulla tua vita In alternativa, puoi venire ai nostri corsi dell'Accademia dei Coach Dove ti porterò in italiano, ovviamente, le conoscenze che ogni anno Più volte all'anno, in realtà, almeno tre volte all'anno Quest'anno anche quattro Vengo ad aggiornare qui dal dottor Richard Bendler E integro nei seminari che facciamo all'Accademia dei Coach Per tutto il resto, cosa dirti? Ti terrò aggiornato in questi giorni E sarà fantastico perché sarà un pochino come essere con noi qui ad Orlando Specialmente per il Neuroipnotic Repatterning La ristrutturazione neuroipnotica Per chi di voi non lo sapesse Sono stato autorizzato a utilizzare e a insegnare parte Delle tecniche del Neuroipnotic Repatterning Nell'ultimo modulo del PNL Evolution Che è proprio l'ultimissima parte dell'Advanced Master Practitioner Che facciamo all'Accademia dei Coach Quindi molte persone mi chiedono ma che cosa si fa nell'Advanced Master Practitioner Dell'Accademia dei Coach? Bene, si fanno tantissime cose Da oltre la PNL e il coaching Al potere ipnotico fino a PNL Evolution Dove si va a vedere proprio l'evoluzione della PNL Se invece vuoi vedere il dottor Richard Bandler dal vivo Ti dico già che quest'anno c'è con traduzione in italiano a Milano Marittima a fine maggio Quando torniamo dall'Inghilterra dove siamo con lui per il Master Practitioner Quindi se hai già un Master Practitioner o sei un trainer di PNL Contattami perché ci sono delle opportunità grandiose per poter vedere il dottor Richard Bandler dal vivo Detto questo ti saluto, ci vediamo domani perché ti racconto un altro po' delle cose che facciamo qui Col dottor Richard Bandler a Orlando Ciao